che ritiro io a nome di Jean-Marc Vallée, Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto e tutti quelli che hanno lavorato al film, ci conferma che la linea elettorale del film di qualità che abbiamo scelto quando abbiamo dato vita a Good Films ha un suo spazio e il suo pubblico, soprattutto quando è supportata da un'importante vetrina come la festa del cinema di Roma. Grazie. Grazie.